Dopo quello di Sciacca, anche il Consiglio Comunale di Ribera ha deliberato, nell'ultima occasione utile, alcuni debiti fuori bilancio destinati alla Sogeir e a Ribera Ambiente, società che si sono e si stanno occupando della raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prima Sogeir, per poi passare la palla a Ribera Ambiente SRL, a totale partecipazione del Comune di Ribera. Nel dettaglio, il civico consesso Crispino ha deliberato il pagamento di circa 2 milioni di euro di debiti fuori bilancio, atto molto urgente anche per evitare il rischio di contenziosi e di interruzione del servizio. Le deliberazioni, alla presenza di tutti i consiglieri comunali, sono state votate, oltre che dalla maggioranza, anche da alcuni esponenti dell'opposizione. È stato registrato quindi un generale senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche presenti nell'Aula Frenna. In ordine cronologico, questi pagamenti e i debiti che sono stati autorizzati, 589 mila euro per Sogeir nel 2015, oltre 470 mila euro per Sogeir nel 2016, 99 mila euro per Sogeir per il 2017, 20 mila euro per l'SRR Ato 11, Grigento, Provincia Ovest, nel 2018, 16 mila e 500 euro per Sogeir nel 2019 e infine circa 739 mila euro per Ribera Ambiente per il 2020. Restano da pagare ancora quasi 800 mila euro di debiti. Abbiamo potuto risanare questi debiti per Sogeir e per l'ente comunale partecipato, afferma il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo, grazie all'avanzo di amministrazione derivante dalle somme del rientro finanziario. Per chiudere il capitolo dei debiti del passato con Ribera Ambiente restano da distribuire per il 2023 altre due annate che si riferiscono al 2018 per l'importo di 360 mila euro e alla somma di 420 mila euro per il 2019. Come si ricorderà, invece, a Sciacca il Consiglio Comunale ha dato il via libera ad un debito nei confronti di Sogeir pari a circa 783 mila euro, autorizzato dopo un lungo tira e molla in aula Falcone Borsellino.